La nostra lettura odierna attorno alle scritture si indirizza ormai nell'interno del Nuovo Testamento, come avevamo già annunciato. E, ancora una volta, vogliamo ribadire proprio in apertura il fatto che questo tema, il tema della Trinità, sia per certi versi un tema non solo difficile, ma anche abbastanza obsoleto, abbastanza dimenticato. Nella predicazione cristiana e anche un po' nella riflessione, non dico teologica, ma in quella più comunemente pastorale, catechetica. Infatti un teologo ha parlato di esilio della Trinità. Un esilio che è così descritto da un famoso teologo di questo secolo, uno dei maggiori del Novecento, del secolo che abbiamo lasciato alle spalle, Karl Rahner. Nonostante la loro esatta professione della Trinità, non si può sorvolare il fatto che molti cristiani, scriveva in un suo saggio, siano quasi solo dei monoteisti nella loro pratica religiosa. Si potrà rischiare l'affermazione che, se si dovesse sopprimere, come falsa, la dottrina della Trinità, pur dopo un tale intervento, gran parte della letteratura religiosa potrebbe rimanere quasi inalterata. Si può avere il sospetto che per il catechismo della mente e del cuore, a differenza del catechismo stampato, che della Trinità parla, la rappresentazione dell'incarnazione da parte del cristiano non dovrebbe assolutamente mutare qualora non vi fosse la Trinità. Nel catechismo della mente e del cuore, cioè nell'abitudine, nella consuetudine. Ancora, se vogliamo sentire la voce di un teologo famoso, anche egli uno dei grandi del Novecento, un teologo protestante, Jürgen Moltmann, che tra l'altro ha scritto un libro tradotto in italiano dalla Quiriniana, un libro sulla Trinità, Trinità e Regno di Dio. Moltmann scriveva, Sembra che poco importi sia nella dottrina della fede come nella morale che Dio sia uno e trino. Questo esilio della Trinità, effettivamente, è una specie di prassi, più che non di una teoria, perché nessuno si permetterebbe di contestare la Trinità da parte di un credente, diciamo. Io, quando ho iniziato questa serie di riflessioni, vi ho ricordato la dichiarazione di Kant, che, questo grande filosofo, il quale, nella sua opera Il conflitto delle facoltà, ribadiva questa idea che è, in un certo senso diffusa, dalla dottrina della Trinità presa alla lettera, non è assolutamente possibile trarre nulla per la pratica. Ecco, noi ora vedremo, leggendo il Nuovo Testamento, che, in realtà, l'orientamento va in tutt'altro senso. Il Nuovo Testamento si preoccupa di far sì che la dottrina trinitaria non rimanga sepolta negli azzurri cieli della mistica o, eventualmente, di una generica spiritualità o della algida riflessione teologica. E, a questo proposito, dobbiamo dire che la teologia di per sé si è interessata della Trinità, anzi, la teologia classica si è molto interessata. Abbiamo avuto occasione di citare, già almeno un paio di volte, o forse più, Sant'Agostino e la sua opera De Trinitate. Possiamo dire che anche la teologia contemporanea ha fatto delle riflessioni a questo riguardo. Io vi ho citato Moltmann, per coloro tra di voi che hanno studi più teologici, potrei anche citare molti altri libri recenti di teologia trinitaria. Per esempio, un grande, un importante teologo come Heberhard Jungel, Dio, mistero del mondo, è il titolo del suo libro, pubblicato in italiano dalla Quirignana, sempre, di Brescia, ha appunto al centro, come interpretazione del Dio, che è mistero ma è nel mondo, proprio la Trinità. Così anche un arcivescovo teologo come Walter Kasper, tedesco, ha scritto Il Dio di Gesù Cristo, sempre edito da questa editrice che si interessa di testi teologici, soprattutto contemporanei, come la Quirignana, ha voluto proprio con quest'opera ribadire ancora che Il Dio di Gesù Cristo è trinitario, e l'ha fatto con una sua ricomposizione della complessità dell'unità e della Trinità. E se vogliamo venire più vicino a noi, a un italiano, Bruno Forte, che voi tutti conoscete, che è anche mio caro amico, ha scritto per le Paoline alcuni anni fa un libro intitolato Trinità come storia, e già il titolo fa capire lo sforzo di staccare questo teorema teologico e di inserirlo nell'interno dell'esperienza della pratica cristiana. Perciò dobbiamo, in qualche modo, sia pure nella semplificazione di queste nostre riflessioni, dobbiamo in qualche modo anche noi mostrare questo volto vivo e non astratto e non geometrico della Trinità. Io facevo già cenno a quel triangolo che di sua natura aveva rappresentato simbolicamente a livello popolare la Trinità e che nella sua freddezza indicava che tutto sommato il dogma trinitare è una questione di geometria teologica e non certo di esistenza e non certo di provocazione concreta per l'esperienza della vita di un cristiano. Noi però, sviluppando questa riflessione, dobbiamo anche tenere presente un altro dato di fatto che in realtà questo ciclo di letture bibliche che stiamo svolgendo non è nient'altro che una specie di sintesi, una somma, un uguale che si fa dopo aver messo una serie di addendi che noi abbiamo distribuito nell'arco dei tre anni precedenti e gli addendi precedenti comprendono, come ricorderete, i capitoli interi, i blocchi interi di conferenze che noi abbiamo dedicato al Padre, alla paternità di Dio nell'Antico e nel Nuovo Testamento, alla Cristologia, come attesa nell'Antico e come attuazione nel Nuovo, come profilo del volto di Gesù Cristo nel Nuovo e poi allo Spirito Santo. Quindi, in verità, questa riflessione è qualcosa di sintetica, è come raccogliere tanti fili e metterli in maniera essenziale insieme e per questo motivo che la riflessione risulterà molto rapida, se volete anche molto schematica. Ebbene, proprio per questo motivo partiamo subito e proponiamo nel Nuovo Testamento, che ci occuperà anche nella prossima lettura biblica, proponiamo oggi un quadro che si articola in due momenti. siamo in pratica in presenza di una specie di dittico e questo dittico ha come punto di riferimento i Vangeli e i Vangeli, voi sapete, sono normalmente articolati anche perché lo sono in sé considerati in due grandi tipologie. Ci sono da un lato i Vangeli sinottici, Matteo, Marco e Luca e dall'altra parte c'è Giovanni. Ho detto che questa tipologia ha un suo senso perché i sinottici hanno una loro connessione anche se ho avuto occasione più volte di ribadire che i sinottici, questi tre Vangeli che apparentemente potrebbero sembrare uguali, paralleli e così via, opere seriali, sono in realtà profondamente originali e indipendenti tra di loro. è solo chi li legge integralmente e attentamente lo può capire. E dall'altra parte però è fuori di dubbio che essi rivelano una loro compattezza, rivelano il fatto di essere un politico che sta insieme. Giovanni ha una sua identità a sé stante ed è anche alla ricerca di queste identità che noi abbiamo dedicato. Ricordo ancora, Giovanni è stato forse l'unico dei Vangeli che ha ricevuto da noi un percorso forse di otto o dieci lezioni, cioè due cicli interi di analisi, proprio perché la sua complessità, la sua ricchezza, meritano un'attenzione specifica. Cominciamo allora con questa prima tavola ideale, i sinottici. Ancora una volta dico che io non riprendo tutto quanto i sinottici dicono sul padre, sul figlio e sullo spirito in maniera separata, in maniera autonoma, indipendente. Io cerco ora di vedere come questi fili vengono intrecciati insieme. Comincerò col dire, col fare una considerazione di ordine generale e poi farò il rimando a due testi in maniera particolare. Due testi che sono matteani. Comincerò con la considerazione di ordine generale dicendovi che la tradizione sinottica legge la storia di Gesù cogliendovi la presenza attiva delle tre persone divine, sia pure non in una maniera rigorosamente, rigidamente connessa, interconnessa. C'è qualche esempio. Pensiamo al battesimo di Gesù. Ecco, nel battesimo di Gesù c'è il tentativo quasi di infilare in unità la presenza del padre con la sua voce. Questo è il figlio mio prediletto. La presenza del Cristo che è sulle sponde del Giordano e si presenta per la prima volta al mondo e intermedio quel simbolo, quel segno che è stato ripetutamente interpretato come lo spirito che è la colomba. In verità, la colomba ha nell'interno del linguaggio biblico molti significati che non necessariamente sono da connettere con lo Spirito Santo. Possono essere, anzi, può essere questo simbolo, come abbiamo avuto occasione di dire, la rappresentazione, l'animale simbolico, stemma quasi di Israele. Quindi ci sarebbe la rappresentazione col Gesù battezzato della figura dell'Israele che sta rinascendo. La prima e la seconda e la nuova alleanza si intrecciano lì. L'Israele fedele della prima e della nuova alleanza sono lì, presenti in Cristo. Ma indubbiamente è fuori dubbio che il padre e il figlio appaiono, come alla trasfigurazione il padre e il figlio appaiono, connessi profondamente da quella dichiarazione che la voce dall'alto pronuncia sul figlio prediletto. Il vero regista della vita di Cristo dobbiamo dire che indubbiamente è il padre, per cui sicuramente queste due dimensioni della Trinità, queste due persone della Trinità appaiono in maniera nitida. Io vorrei a questo proposito citarvi una frase soltanto che a prima vista sembrerebbe non essere esplicitamente connessa con la figura del padre e quindi con una dimensione trinitaria, ma una frase molto importante che è ribadita tre volte. Mentre Gesù sta avvicinandosi lentamente al suo destino, al vertice del Golgotha. E quel lungo cammino di avvicinamento a Gerusalemme, la città del Messia sacrificato. Si legge per esempio in Matteo 16,21, ma è presente anche negli altri sinottici, questa frase. Da allora Gesù cominciò apertamente a dire ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli scrivi e dei sommi sacerdoti e degli anziani e venire ucciso e risuscitare il terzo giorno. Ecco, perché ho voluto citare questa frase che in realtà non ha la presenza del padre? perché c'è la possibilità di vedere l'intreccio dei due livelli sui quali si muove la storia di Gesù. Due livelli. Un livello di superficie e un livello di profondità, di mistero. Ed è tutto nell'interno di quel verbo. bisogna, doveva, dei, bisogna che debba andare a Gerusalemme, deve andare a Gerusalemme, bisogna che il figlio dell'uomo vada a Gerusalemme, muoia e risorga. Quel doveva è proprio la rappresentazione di una necessità, tra virgolette, di tipo teologico che è nient'altro che la rappresentazione del progetto del padre nei cui confronti Cristo è obbediente come uomo e come figlio aderisce in pienezza. Quindi vedete che allora tutta la vita del Cristo è sotto il segno del bisogno, dell'è necessario, del si deve. E questo bisogno, necessità, dovere è il grande disegno, il grande piano che Dio ha deciso di realizzare nell'interno della trama oscura della storia. Questi eventi di Gesù che perciò si dissolvono quasi in una serie di ore, di giorni, di mesi, di azioni, di parole, in realtà fanno parte, livello superficiale, in realtà fanno parte, livello profondo, di un progetto, di un è necessario, di un dei in greco, bisogna. ma ancora dall'altra parte a livello generale possiamo dire che anche lo spirito appare ripetutamente, lo spirito santo. Gesù proprio nel suo germogliare nell'interno della storia lo fa, lo compie, questo suo germogliare attraverso l'opera dello spirito santo. Infatti Gesù è concepito per opera dello spirito santo, ripete, sia Matteo 1,18, ossia Luca 1,25, è il medesimo spirito, come abbiamo avuto occasione di vedere a suo tempo, accompagna, guida, spinge persino le tappe della vita di Gesù, lo spinge per esempio nel deserto per essere tentato dal diavolo e dello spirito che muove segretamente il dinamismo della storia di Gesù. Quindi possiamo dire che tutte e tre le persone divine si affacciano nella storia di Gesù. Ma io volevo proporvi un paio di testi dove la figura trinitaria nel suo insieme tripersonale appare in maniera nitida. E curiosamente il primo testo che vi propongo è proprio la finale di un Vangelo. È la finale del Vangelo di Matteo. E' una scena si usa dire tecnicamente che è una cristofania. Cioè il Cristo risorto glorioso entra in scena e assomiglia al Dio dell'Antico Testamento che appare lasciando abbacinati coloro che gli stanno attorno. Infatti i suoi discepoli sono lì attorno prostrati anche se nel loro interno nell'interno di alcuni di loro si insinua il dubbio perché l'esperienza che stanno facendo è un'esperienza di fede non è più un'esperienza visiva semplicemente la teofania l'apparizione di Dio l'epifania divina non può essere solo percepita con gli occhi gli occhi magari possono vedere eventualmente qualcosa di strano seppure vedono forse non vedono nulla vedere il mistero è frutto di un'esperienza di fede e quindi si può anche dubitare infatti il testo che è in Matteo 28 del versetto 16 in avanti comincia così gli undici discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro fissato quando lo videro il risorto gli si prostrarono innanzi alcuni però dubitavano e nell'interno di questa solenne epifania del Cristo risorto e glorioso ecco ci sono delle parole sono le parole ormai del Signore della storia dello spazio del Signore di tutto l'essere di quello che i greci chiamavano il Pantocrator cioè il Dio onnipotente onnipotente su tutto colui che domina tutto quelle figure che noi abbiamo conosciuto nella storia dell'arte che sono state chiamate appunto il Pantocrator nelle apsidi per esempio delle grandi chiese delle grandi basiliche bizantine pensate a Morreale l'incombere impressionante di questo Cristo Pantocrator che domina tutto lo spazio e che coi suoi occhi profondi perfora anche lo sguardo di tutti coloro che fissano i loro occhi intimiditi in lui e infatti Gesù dichiara avvicinatosi a loro mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra andate dunque e fate discepole tutte le nazioni battezzandole nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo insegnando loro ad osservare tutto ciò che io vi ho comandato ed ecco quell'ultima frase che tra l'altro è veramente un gioiello perché è la rappresentazione già anche usata poi con altre espressioni dall'Apocalisse è tutto l'arco della storia che viene quasi attraversato da un istante del divino dall'istante del divino dell'Eterno e io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo badiamo a quella formula l'abbiamo sentita andate fate discepole tutte le nazioni battezzandole nel nome del Padre e del Figlio dello Spirito Santo una formula trinitaria così esplicita è unica in tutto il Nuovo Testamento e perciò un po' sorprende perché noi sappiamo che per esempio altrove penso agli Atti degli Apostoli ci sono parecchi testi in cui il battesimo è invece impartito semplicemente nel nome di Gesù andate a vedere negli Atti degli Apostoli per esempio vi cito solo un testo due trentotto ma sono molti in cui il battesimo è impartito nel nome di Gesù ancora non possiamo dubitare di questa formula anche se certamente ricalca la fede della Chiesa delle origini però vuol dire che allora gli evangelisti già avevano ben chiara questa fede trinitaria già le origini del cristianesimo non possiamo dubitare e dire che è stata introdotta successivamente perché tutti i testi l'hanno i documenti che ci hanno trasmesso i codici per esempio che ci hanno trasmesso gli evangelii hanno questa formula non hanno altre formule ma anzi abbiamo una controprova sul finire del primo secolo un'opera extra biblica extra neotestamentaria di grande importanza di cui forse di cui forse avrete sentito parlare forse l'avrete anche letta perché è veramente suggestiva come testimonianza della letteratura delle origini cristiane la didache ton apostolon cioè l'insegnamento degli apostoli un'opera un librino molto fine molto interessante anche perché ci permette di conoscere com'è la liturgia della Chiesa delle origini un librino diceva com'è la didache proprio contiene questa formula analoga a quella di Matteo la conosce anche essa quindi dobbiamo dire che la formula trinitaria è nota fin dallo sbocciare della Chiesa e questa formula trinitaria merita però una sua considerazione perché non so se avete notato forse questo scivola via nella lettura c'è chiaramente la distinzione delle tre persone nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo però c'è anche l'affermazione dell'unità dell'unità della natura e dove voi direte ma è chiaro non si dice nei nomi ma nel nome e voi sapete che il nome indica la realtà profonda di un essere sia animato o inanimato gli animali stessi dicevano il nome da l'uomo perché è la definizione della loro essenza che è posseduta quasi dall'uomo attraverso la scienza attraverso la conoscenza ecco qui abbiamo l'esistenza cristiana si svolge il battesimo si svolge nell'interno delle tre persone che però sono uniche nel nome sono unite profondamente nel nome e è interessante notare che il battesimo è nel nome del padre del figlio dello spirito santo il battesimo stesso è correlato cosa vuol dire questa espressione che noi siamo battezzati nel nome e se stiamo a linguaggio biblico dobbiamo dire sicuramente che noi siamo in relazione ma questa relazione è una relazione di comunione nel linguaggio biblico e quindi una adesione perciò il battesimo cristiano impartito nel nome della trinità introduce nel mistero di dio nel mistero del dialogo trinitario prendiamo un altro testo questo esplice un altro che invece è forse un po' più difficile però ha nell'interno la possibilità di rivedere ancora veder brillare la trinità è un testo che troviamo sia in Matteo che in Luca io però ve lo leggo nella versione lucana perché la versione lucana ci permette meglio di vedere la trinità quella di Matteo sottolinea di più il rapporto padre figlio è un passo molto famoso e anzi una delle grandi delle poche grandi preghiere di Gesù voi sapete con i Vangeli abbiamo pochissime preghiere di Gesù il padre nostro la preghiera finale dell'ultima cena qualche parola invocazione ma abbiamo raramente delle vere si dice che Gesù prega ma non si dice il contenuto della preghiera la modalità qui ne abbiamo invece abbiamo un esempio un esempio peraltro bellissimo è stato chiamato dagli studiosi ormai da anni e anni l'inno di giubilo perché proprio Luca dice esplicitamente che è un grido di gioia esultò il verbo che usa è proprio il verbo della felicità ma della felicità quasi non dico danzante ma della gioia che esplode ecco perché uso il testo lucano lo sentirete subito se volete potete poi vederlo voi più tranquillamente sia in Matteo che in Luca i passi paralleli in Matteo lo troviamo in 11 25 27 in Luca invece nel capitolo decimo dal versetto 21 al 22 in quello stesso istante Gesù esultò nello Spirito Santo ecco comincia Gesù e lo Spirito in pienezza e disse io ti rendo lode Padre Signore del Cielo e della Terra che hai nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli sì Padre perché così è a te è piaciuto ed ecco il versetto 22 che è particolarmente importante per la teologia trinitaria ogni cosa mi è stata affidata dal Padre mio e nessuno sa chi è il figlio se non il padre né chi è il padre se non il figlio e colui al quale il figlio lo voglia rivelare naturalmente qui ci sono tutte le maiuscole nella traduzione giustamente perché si sta facendo un discorso trinitario quindi abbiamo lo Spirito che è in Gesù e Gesù fa una dichiarazione che riguarda il suo rapporto con il padre vorrei per un momento fermarmi su questa dichiarazione prendendo alcuni elementi di essa prima di tutto tutto mi è stato dato quel mi è stato dato vuol dire che Cristo riceve dal padre quindi c'è un rapporto tra padre e figlio particolare di dono e di accettazione ma c'è qualcosa di più importante da sottolineare nell'interno di questa dipendenza nell'interno di questa relazione è una relazione primo di conoscenza nessuno conosce il padre se non il figlio se non il padre né chi è il padre se non il figlio conoscere e voi sapete ormai dalle molte volte che l'abbiamo detto che la conoscenza è sempre nel linguaggio biblico non è un'esperienza solo intellettuale è un'esperienza vitale include l'esperienza l'obbedienza l'amore la passione l'adesione conoscere è un rapporto vitale e circolare tra due persone infatti qui vedete che si ripete la reciprocità non dice soltanto il figlio conosce il padre no anche il padre conosce il figlio e apparentemente è un rapporto chiuso sembrerebbe essere un rapporto esclusivo perché nessuno conosce chi è il figlio se non il padre né chi è il padre se non il figlio nessuno ma non è bloccato non è sigillato non è chiuso irrimediabilmente non è un cerchio in sé chiuso può essere aperto il figlio è venuto per aprirlo infatti si aggiunge e colui lo conosce colui al quale il figlio lo voglia rivelare voi vedete che abbiamo una rappresentazione del dialogo intimo profondo trinitario tra il padre e il figlio nel figlio poi c'è lo spirito e questo dialogo non è destinato ad essere una monade una cellula chiusa in se stessa uno splendido isolamento è qualcosa che deve essere aperto per inglobare in sé anche la presenza del cristiano e questo aspetto è l'aspetto sul quale adesso noi vedremo insisterà in maniera particolare Giovanni passiamo dunque alla seconda grande tavola abbiamo visto nella prima che abbiamo fatto questa prima tavola dedicata ai sinotici abbiamo fatto sostanzialmente due considerazioni la vita di Cristo è modellata è modulata è animata dalla presenza trinitaria padre e spirito entrano nell'interno della storia di Gesù soprattutto nella sua intimità più profonda adesso abbiamo poi sottolineato attraverso quei due testi citati in finale come la trinità non sia una specie di perimetro chiuso di circonferenza ritorniamo ancora all'idea del triangolo del cerchio cioè immagini geometriche che di loro natura suppongono la separatezza suppongono qualcosa di assolutamente mentale e non vitale perché nessuno dà la vita per un sistema geometrico è invece una esperienza aperta cioè la persona ecco perché si è ritornato al concetto si è usato il concetto di persona nella teologia successiva la persona di sua natura è un essere ad è un essere in comunione è un essere aperto ebbene le persone trinitarie sono in dialogo tra loro sono profondamente interconnesse avete visto il padre il figlio in questo dialogo ma questo dialogo è aperto dicevo prima il battesimo è nel nome del padre del figlio dello spirito santo è nel nome non vuol dire soltanto nell'autorità o col sigillo della trinità ma vuol dire in relazione con in comunione con in intimità con e allora il cristiano è chiamato ad essere coinvolto nell'interno di questo oceano di luce e di infinito ed è per questo che la nostra fragilità è assunta in dio cioè nella grande circolarità di dio la quale però non è chiusa rigidamente bloccata fissata in se stessa veniamo ora al vangelo di Giovanni dove evidentemente il tema trinitario è molto più complesso e in un certo senso noi l'abbiamo già presentato perché avendo fatto la presenza di dio della paternità di dio la presenza del cristo e dello spirito soprattutto questi due elementi la cristologia la pneumatologia come si dice con il linguaggio tecnico dei teologi cioè la figura di cristo la figura dello spirito del vangelo di Giovanni l'abbiamo lungamente noi considerata a suo tempo quindi di per sé si tratta di categorie molto complesse molto adesso cercheremo ancora una volta anche nell'interno di questa ricchissima questo ricchissimo panorama di questo ricchissimo orizzonte come quello di Giovanni di fare una riflessione un po' più circoscritta di annodare questi fili e la fatica che vi richiedo di fare evidentemente è quella che quando si fa teologia è necessario avere anche un po' di discorso rigoroso è necessario avere anche delle categorie sia pur minime non si può soltanto conoscere le ragioni del credere attraverso uno sguardo dato dall'alto vago come si accontentano molti cristiani dicendo che è meglio comunque non interessarsi troppo perché si perde la fede ma allora quale tipo di fede è questa che teme il confronto è lo sguardo che anche è pronta a registrare perché è proprio della fede anche l'oscurità perché la fede non è la dissoluzione del mistero nell'interno di un teorema della ragione non è nell'interno dell'orizzonte della nostra mente l'aggregazione di tutto il mistero l'accumulo la prigione di tutto il mistero il mistero continua a fuoriuscire continua a debordare e quindi come tale la fede è continuamente in ricerca è continuamente in ansia tant'è vero che si dirà solo quando saremo davanti a lui e lo vedremo così come egli è e cesserà la fede e allora ci sarà soltanto quell'esperienza che adesso proviamo imperfetta che però è l'esperienza della pienezza è paradossalmente una pienezza incompiuta è una pienezza non piena cioè l'amore perché l'amore è l'adesione ormai è la comunione e la comunione quando è totale è ormai la trasposizione dell'uno nell'altro lo vedremo così come egli è dice la prima lettera di Giovanni bene io scelgo in questa riflessione un po' in po' scelgo due testi li metto questa volta in partenza come li ho messi in finale prima e poi faccio una considerazione di ordine generale prendo i due testi i due testi che voglio proporvi sono quelli che illustrano il rapporto padre figlio nella considerazione generale finale invece illustrerò il rapporto padre figlio e spirito santo quindi la trinità che si costruisce quasi davanti ai nostri occhi che si configura progressivamente che cosa prendo come primo testo io prendo un testo famosissimo che voi tutti sapete a memoria che io so a memoria in greco cioè l'inizio del Vangelo di Giovanni capitolo primo io prendo solo il primo versetto che potrebbe già bastare del Vangelo di Giovanni all'inizio del prologo si legge quella famosa frase che voi tutti avete in mente tanto è famosa in principio era il logos e il logos era presso Dio e il logos era Dio il verbo la parola che è Cristo come vedete questa affermazione potremmo parafrasarla così il logos il Cristo il verbo la parola esiste da sempre perché è divino però esiste presso vicino però in greco noi non abbiamo un'espressione come il presso il vicino perché per noi presso è come accostare due oggetti metterli presso accanto l'uno all'altro noi in greco abbiamo ed è per questo che è importante l'originale prostontheon dove c'è l'idea della vicinanza dinamica si può essere sul treno l'uno accanto all'altro e si può essere l'uno accanto all'altro due fidanzati abbracciati voi capite bene che è ben altro la tipologia della vicinanza ecco quello che si vuole sottolineare qui è che il figlio è rivolto al padre è rivolto a dio questa espressione greca perciò indica un moto a luogo pros un avvicinarsi che non è però semplicemente quello spaziale è quello dell'abbraccio inoltre abbiamo da notare anche che dio in greco il termine dio è preceduto dall'articolo ora nel nuovo testamento otheos il dio è per eccellenza il padre quindi possiamo dire che giovanni vuol dirci con questa parola con questa frase che nella sua essenza più intima il figlio è relazione ascolto obbedienza adesione amorosa al padre perennemente rivolto in comunione col padre è questa se volete la rappresentazione che noi certe volte abbiamo anche nella lettera agli ebrei abbiamo un po' deformata quando si dice l'obbedienza del figlio perché per noi l'obbedienza è sempre qualcosa che insomma non rasenta la schiavitù però ci pesa ha un po' il sapore della servitù obbedire invece nel concetto biblico soprattutto si tiene presente qual è la base anche dell'italiano stesso della parola obbedire come anche in greco upako è obbedire è obaudire cioè ascoltare e voi l'ascolto sapete che è adesione l'ascolto vero l'ascolto vero è partecipazione l'ascolto vero è proprio come sentire quella voce che ti fa sobbalzare il cuore lo spirito secondo testo Giovanni 17 Giovanni 17 lo ricordate tutti sono quelle ultime parole che Gesù pronuncia prima delle cosiddette sette parole di Gesù in croce diremmo noi cioè le ultime parole le ultime l'ultimo discorso che Gesù fa al suo uditorio in questo caso l'uditorio privilegiato i credenti in lui i discepoli che fa nel cenacolo l'ultima sera della sua vita terrena voi sapete che dal capitolo tredicesimo al diciassettesimo di Giovanni c'è quel lungo fluviale discorso di Gesù che finisce con una preghiera ecco un'altra delle rare preghiere di Gesù una preghiera solenne molto studiata dagli esegeti molto complessa molto raffinata molto strutturata ha un suo disegno cioè non è casuale Giovanni cioè la ricomposta sulle parole di Gesù ma ha fatto una vera e propria composizione teologica al punto tale che è stato detto da un esegeta uno studioso che si trovano qui 40 vocaboli caratteristici della teologia di Giovanni ha voluto fare quasi un grumo raggrumare tutto il suo pensiero qui il quarto evangelista ebbene che cosa troviamo nell'interno di questo testo qui troviamo rappresentata a più riprese la mutua immanenza tra il padre e il figlio il padre e il figlio sono profondamente connessi l'uno all'altro al punto tale che l'uno è nell'altro e viceversa e questa profonda unità diventa la radice la sorgente dell'unità dei discepoli tra loro ma ascoltiamo le parole di Gesù vi scelgo solo alcuni versetti di questo capitolo decimo settimo solo alcuni brandelli quasi del testo il 21 il 23 il 26 come tu padre sei in me e io in te siano anch'essi in noi una cosa sola notate bene la connessione io in te tu in me loro in noi perché sono uniti tra di loro attraverso l'amore che ricevano da noi io in loro e tu in me perché siano perfetti nell'unità vedete questo il rompere del padre del figlio attraverso la mediazione del figlio nell'interno della comunità dei credenti e da ultimo l'amore col quale tu mi hai amato sia in essi e io in loro vedete ancora una volta che la categoria fondamentale qui abbiamo non tutta la trinità ma le componenti una prima componente fondamentale della trinità il padre e il figlio ebbene è proprio intimamente aperta all'adesione all'ingresso anche dei credenti di coloro che sono discepoli e l'espressione che viene usata badate bene essere in è in aien in greco questa espressione non è statica nel Vangelo di Giovanni è stato dimostrato molto bene è una espressione di inserimento cioè è l'essere vitale nell'altra persona non il puro essere statico per cui uno viene inserito in un altro e quindi ancora una volta il tema del dialogo e della comunione l'inserimento nel dialogo trinitario perciò produce nei credenti una duplice comunione col padre e col figlio e tra di loro proprio perché siamo poi la prima lezione di Giovanni lo illustrea proprio perché noi siamo in comunione col padre e col figlio riusciamo ad essere in comunione tra noi e proprio perché il nostro amore diventa il riflesso diventa la manifestazione l'epifania della nostra partecipazione alla divinità e a questo punto vorrei dopo aver considerato questi due testi Giovanni 1 e Giovanni 17 vorrei concludere questa prima considerazione e passare alla seconda la concludo ancora con delle parole dei discorsi dell'ultima cena ascoltate questo versetto 14-20 sempre nel Vangelo di Giovanni voi saprete che io sono nel padre e voi in me e io in voi vedete la catena io sono nel padre voi siete in me io in voi vedete anche la libertà dell'uomo anche voi dovete entrare in me non è che io vi prenda e vi succhi vi assuma quasi con la forza e proprio perché io sono nel padre voi siete anche nel padre ecco la circolarità che dicevamo prima aperta all'immissione anche della creatura e passo invece alla seconda considerazione sullo spirito voi ricorderete quando io ho parlato dello spirito santo nell'interno del nuovo testamento vi avevo fatto sottolineare anche una cosa che nel Vangelo di Giovanni in quelle ultime parole di Gesù in quella sera in quel crepuscolo primaverile degli anni o trenta o trentatré insomma in quel periodo ci sono cinque promesse dello spirito santo queste cinque promesse del paraclito sono importanti per comprendere la connessione tra Cristo e lo spirito e i cristiani e Cristo attraverso lo spirito però adesso io ve ne farò passare così alcuni testi ve li faccio passare davanti agli occhi e voi sentirete che in realtà questi passi sono trevitari in maniera esplicita cioè nell'interno di quelle cinque promesse ci sono ormai le tracce che costruiscono il profondo legame che intercorre tra padre figlio spirito e credente sempre leggo 1416 voi semplicemente ascoltate e vedrete che anche da sole anche proprio socchiudendo gli occhi senza bisogno di avere il testo di fronte sentirete proprio configurarsi lo schema trinitario io pregherò il padre ed egli vi darà un altro consolatore un altro paraclito 1416 io cristo pregherò il padre egli vi darà lo spirito 1425 lo spirito santo che il padre manderà nel mio nome lo spirito il padre il nome la persona di cristo mio nome 1426 il consolatore il paraclito lo spirito santo che il padre manderà nel mio nome vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà quanto vi ho detto notate lo spirito santo che il padre manda nel mio nome vedete sempre il trittico trinitario e soprattutto qui avete anche una rappresentazione della funzione poi della trinità attraverso lo spirito è quello di poter permettere a noi di interiorizzare e di vivere e di attualizzare la parola del cristo vedete che la trinità alla fine alla funzione di farci vivere il messaggio di cristo in pienezza e il messaggio di cristo è la divinizzazione della creatura la comunione della creatura col creatore ancora l'ultimo testo che vorrei leggervi 167 questo ve lo leggo a conclusione perché introduce un aspetto particolare lo metto quasi tra parentesi questa citazione un aspetto particolare di un dibattito teologico che noi non affrontiamo perché toccherebbe la teologia dei secoli successivi 167 quando me ne sarò andato io Cristo ve lo manderò vi manderò lo spirito perché ho voluto citare questa frase voi sapete la grande battaglia teologica con le chiese d'oriente per il filioque lo spirito santo procede solo dal padre i versetti che abbiamo letto prima sembrerebbero andare in questa linea io pregherò il padre e gli vi darà e gli vi darà un altro consolatore lo spirito santo che il padre manderà ma nel mio nome qui però vedete il filioque cioè che lo spirito proceda dal padre e dal figlio come diremo tra poco anche nel credo nella liturgia della messa ebbene è certamente fondato nel Vangelo di Giovanni quando me ne sarò andato io vi manderò lo spirito santo e lo spirito ha la funzione proprio in questo caso di esaltare come prima abbiamo visto la connessione profonda tra il padre e il figlio a cui siamo ammessi anche noi qui vediamo la connessione profonda tra lo spirito santo e il figlio a cui siamo ammessi anche noi infatti si dice che le parole di Gesù restano incomprese ora non siete in grado di portarne il peso si dice nel Vangelo di Giovanni ho ancora molte cose da dirvi ma non siete in grado di portarne il peso quando sarà venuto lo spirito di verità egli vi guiderà alla pienezza della verità infatti non parlerà da se stesso ma racconterà ciò che ha udito egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo manifesterà è capitolo sedicesimo sempre Giovanni versetti 12-14 voi vedete che le parole di Gesù restano incomprese ancora perché noi non siamo in grado ancora di comprenderne tutta la ricchezza rimarrebbero inerte inerti non condurrebbero alla fede non apparirebbero quali veramente sono cioè parole di Dio se non ci fosse lo spirito che è profondamente connesso col Cristo e che viene effuso dentro di noi trasfigurando perciò la nostra incapacità ecco a questo punto riusciamo a comprendere che lo spirito e il figlio sono intimamente connessi tra di loro nella funzione della parola della rivelazione della comunicazione e noi siamo ammessi perché noi comprendiamo entrando in comunione con lo spirito e con Cristo comprendiamo la rivelazione del padre riusciamo cioè a comprendere il grande svelamento di Dio altrimenti queste parole risulterebbero per noi opache risulterebbero incomprensibili a questo punto dobbiamo concludere la prossima volta e ci inoltreremo nell'interno di un territorio teologico ancora più complesso che quello di Paolo dove il schema trinitario è particolarmente presente io vi ho detto che noi non consideriamo tutto il mare della teologia trinitaria dei secoli successivi ma non solo della teologia trinitaria dovrei dire la trinità entra anche nella spiritualità pensiamo nella spiritualità ortodossa com'è importante la trinità ci sono dei testi liturgici splendidi nella liturgia ortodossa dedicati alla trinità tra l'altro accompagnati da quella musica sontuosa che è la musica corale la musica vocale perché voi sapete che differenza di noi la liturgia orientale delle chiese ortodosse o delle chiese anche unite a Roma dell'Oriente non usano gli strumenti musicali non hanno l'organo per esempio e quindi l'opulenza del canto deve essere affidato tutto alla ricchezza delle voci le voci devono anche fare la parte dello strumento quasi ebbene proprio nell'interno di questi testi noi vediamo sfolgorare la trinità sempre sentita però come questo abbraccio non come una realtà sospesa tra le nuvole dei cieli una realtà che coinvolge profondamente l'esperienza del credente in preghiera ma anche dovremmo entrare e magari faremo un cenno in finale nella prossima lettura dovremmo entrare anche nella mistica pensiamo ad esempio a una figura mistica di alto livello abbastanza vicina a noi cronologicamente parlando come sore Elisabetta della Trinità che ha costruito un po' la sua spiritualità con intuizioni tra l'altro molto felici proprio sul mistero trinitario ebbene io voglio finire oggi ricordandovi spero che tutti in questo momento riescano perché anche se gli studi sono magari molto lontani nel tempo riescano per un momento a ricordare forse anche a memoria alcuni dei versi che parlano della Trinità e ci invitano dopo tutto quanto abbiamo detto adesso di abbastanza trasparente cioè di abbastanza comunicativo della Trinità ci invitano questi versi ad essere più umili è un po' quello che Agostino già diceva ricordate quando invitava alla fine a far tacere anche il pensiero non solo le parole a frenare questo pensiero che non riesce a fermarsi e che continua a voler andare oltre e a spiegare tutto cioè nel mistero trinitario c'è anche nel mistero di Dio c'è anche una dimensione di invalicabilità di ineffabilità altrimenti correrebbe rischio di essere semplicemente un gioco una danza della fede umana che cerca in qualche modo di rappresentare Dio quindi che qualcosa ci sfugga fa parte del mistero che qualcosa non riesca ad essere ordinato anche nell'interno di quei libri che ho citato prima nella speculazione di questi teologi e di tanti altri che hanno tentato di farlo a partire proprio dai padri della Chiesa e voi sapete a chi voglio riferirmi io penso almeno voglio riferirmi a Dante io ho la fortuna di avere nell'interno dove abito io nell'interno aggregato al mio appartamento di avere una bellissima deliziosa tra l'altro sono fortunato di avere una deliziosa torretta ottagonale e questa torretta ottagonale ha uno studio uno studiolo in alto con delle vetrate con le quattro stagioni che si affaccia su tutti i tetti di Milano sul duomo di Milano e lì un mio predecessore anni e anni fa molti anni fa saliva solo esclusivamente per leggere tutti i giorni un canto di Dante della Divina Commedia era una specie di rezzo allora se lo potevano permettere anche probabilmente con una vita meno agitata tormentata turbolenta e nomade di quella che conduco io si potevano permettere questo però anch'io mi ritiro lì quando effettivamente riesco ad isolarmi completamente nella notte fonda per esempio oppure anche durante il giorno e mi viene in mente questa cosa anch'io ogni tanto non su lì ma quando posso ritorno ancora a Dante l'ho suggerito qualche volta anche scrivendo suggerendo di fare un po' di vaccinarci un po' ogni tanto da tante stupidità che leggiamo da tante cose inutili anche se serie ma inutili con la grandezza della poesia pura altissima e del genio e anche della fede ebbene nel canto terzo del purgatorio nel dal versetto 34 fino al versetto 39 c'è una proclamazione una professione di umiltà che questo grande poeta fa nei confronti della trinità e sono versi che sicuramente avete in mente perché si imparava una memoria quando molti anni fa pochi anni fa dipende si studiava la divina commedia anche con dei testi ma siamo nell'antipurgatorio e Dante accompagnato da Virgilio Virgilio che è considerato già da Dante un po' come il profeta un profeta della cristianità e quelle parole sono famose matto è chi spera che nostra ragione possa trascorrere la infinita via che tiene una sostanza in tre persone state contenti umana gente al quia al perché che se possuto aveste vedere tutto mestier non era parturir Maria senza la rivelazione di Cristo sarebbe stato impossibile per noi varcare i cieli dell'infinito di Dio cieli che sono però pur sempre un'infinita via l'infinita via del mistero Trinità l'infinita l'infinita l'infinita